Ad Alessia Cognetti, neo eletta presidente della Ruzzoreti, non interessano più le polemiche politiche e di merito sull'elezione dell'intero CDA dell'ente, questioni già sepolte. Massima stima per ogni sindaco della provincia di Teramo, incluso Gian Guido D'Alberto, e si guarda avanti. Tante sono le innovazioni da portare subito all'acquedotto, come la sostituzione delle vecchie tubature che procurano da anni perdite d'acqua enormi. Lei annuncia una rivoluzione concretissima. La dispersione idrica è un problema italiano, nazionale, molto elevato. Ci sono territori in Italia dove c'è il 70% di dispersione, anche il nostro ha una percentuale abbastanza alta che si attesta intorno al 30-40%. Nel passato noi abbiamo focalizzato gli investimenti soprattutto sul settore della depurazione, con dei risultati notevoli, circa due terzi degli investimenti sono stati destinati alla depurazione. Per il prossimo triennio prevediamo un piano di investimenti più centrato sulla ricostruzione delle condotte, dove ci sono dei tratti che necessitano oggettivamente di più manutenzione rispetto ad altri, quindi finalizzato a limitare questo fenomeno di dispersione. Cercherà di risanare anche il debito che ha questo ente? Allora, questo è un lavoro che stiamo, il precedente Consiglio di Amministrazione, quello dove facevo parte io negli ultimi sei anni è stato un po' l'obiettivo che è trainante di tutti i Consigli di Amministrazione che hanno presieduto l'ente. Il debito era importante, si è lavorato moltissimo, siamo quasi in prossimità di un traguardo che è quello della chiusura, della rateizzazione nei confronti delle imprese private che avevano effettuato in passato dei lavori. È stata fatta appunto dal dottor Forlini una rateizzazione con queste imprese, un accordo e siamo quasi a chiudere questo accordo nel mese di marzo 2019. Poi inizieremo con il saldare il debito nei confronti dei comuni, il debito pregresso, determinato dai mutui che i comuni avevano acceso per le reti idriche, piano piano si sta uscendo da questa crisi. Alessia Cognitti è la prima donna che viene eletta presidente della Ruzzoreti, un ente strategico, tecnico e particolarmente ambito. Verrebbe da dire che il soffitto di cristallo, spesso irraggiungibile per le donne, per una volta sia stato infranto. Il fatto che lei sia una donna, questo è un orgoglio per tutte le altre donne ovviamente, la mette un po' in ansia? Allora no, non mi mette in ansia. Sicuramente sono molto felice, ho visto molta, moltissima solidarietà, moltissima gioia da parte, perché anche se si è fatto tanto, tantissimo sotto un profilo legislativo per arrivare a una parità di genere, in realtà ci sono cose che fanno ancora notizia. Il fatto stesso che faccia notizia dà un segno del fatto che a livello culturale si fa ancora un po' fatica. Non sembra normale che una donna sia presidente di un ente, soprattutto un ente tecnico come questo, che si occupa appunto di acquedotto, depurazione e funiature. Sono molto felice.